Il dono più bello che ho fatto sono i miei figli Per me è la mia famiglia La vita, la famiglia, le amicizie Il dono più bello, sì, la nascita del mio nipotino Senza un po' di dubbio è la vita da parte dei miei genitori Quindi di conseguenza il dono più bello che ho fatto penso aver donato la vita ai miei due bambini Ci ho messo tutto il mio impegno per coinvolgere i colleghi e anche esterni a venire a donare Questa giornata è una giornata importante Soprattutto perché c'è proprio un discorso di devolvere qualcosa a qualcuno Il donare parte del tuo sangue è fondamentale Miami Ristoro organizza questa giornata ormai da un paio di anni Perché come azienda abbiamo deciso da tempo di fare anche la nostra parte nell'ambito sociale E abbiamo iniziato a pensare a quale progetto poteva essere integrato tra le due realtà Miami Ristoro da una parte e Avis Milano dall'altra E così è nato il contributo che Miami dà ai donatori Offrendo e contribuendo ad offrire le colazioni E organizzando invece questa giornata Diciamo questa unità mobile che si muove dalla sede di Milano E viene presso la nostra azienda È un gesto che non costa niente Sicuramente donerò ancora il sangue Donerò ancora il sangue Molto probabilmente avendo una figlia, avendo una creatura Capisce anche altre cose